il brescia no 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 non è che il sardis che è fatta in Atalanta quando riarà il brescia fa il brescia lì dai 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 non mi piace il lunedì e detesto il venerdì la domenica però allo stadio ci sarò e ci c'è da fare il tifo per la squadra che ho nel cuore sono pronto a sostenerla per due ore gioca l'Atalanta la masica Atalanta che a giocare canta e per questo vincerà non mi piace andare al mare ho paura di annegare non mi piace andare ai monti nei rifugi con gli scolti che mi piace la partita della squadra preferita con gli amici ci starei per una vita a vedere l'Atalanta di nera azzurrotita che non si dà mai per vita e per questo vincerà oh 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 se per tutta settimana resto in ansia per la gara alla fine son sicuro tutto si risolverà vincerà contro la Roma vincerà si contro il Brescia vincerà contro il Torino e contro il Milano ogni nera azzurrotita dai 3 alla fine dei 90 oh 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 vincere l'Atalanta e sempre vincerà e sempre vincerà fatto! grande Sì